Aver creato questa tela è stata un'esperienza unica, un'esperienza che mi ha permesso di capire più di me stesso e la definirei quasi trascendentale. Ci sono stati momenti in cui non avevo nemmeno controllo delle mie emozioni e sentivo soltanto una forte energia che mi faceva continuare a scegliere i colori, a scegliere come portarli sulla tela e nel vederla ora ritrovo parte di me, una parte di me che mi piace molto e che magari io non conoscevo prima. Io credo che l'aver potuto creare quest'opera in cui non ho fatto altro che trasportare le mie emozioni usando come veicolo i colori su questa tela abbia creato un cambiamento in me e un cambiamento positivo. Mi presento, questo sono io, io sono Felix.